Stiamo a sentire. Allora, qua ci sono due chilometri da fare nella neve a salire, per vedere il piano di Lauro e poi si scende di nuovo qua e si va. Vuoi andarci al piano di Lauro? Dove vuoi andare? Di qua. Non ti interessa la parte più bella del partenio? Dillo! Purtroppo non mi interessa la parte più bella del partenio. C'è la mia? No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no